Hanno soffruito dai domiciliari le cinque persone arrestate dai finanzieri della compagnia di Monopoli per spaccio di droga. Si tratta di un 46enne, un 25enne di Bari, di un quarantenne, di un uomo di 55 anni di Polignano e di un giovane 27enne di Casa Massima. Una delle centrali dello spaccio, per lo più rivolto a giovani e giovanissimi, era, secondo gli investigatori, la spiaggia di Calapaura a Polignano, luogo di mare in cui la droga veniva consumata e spacciata, di cui il nome Riva al Mare, dato all'operazione delle fiamme gialle che hanno eseguito gli arresti all'alba di due giorni fa. L'indagine è partita da un altro arresto avvenuto nel 2010. Sempre le fiamme gialle fermarono sulla statale 16, in territorio di Polignano, un presunto corriere che avrebbe poi fatto mezzi a missioni agli investigatori, di cui il monitoraggio continuo della spiaggia di Calapaura a Polignano, che ha portato ai riscontri delle ultime ore. Un'altra centrale di spaccio e i finanzieri l'hanno scoperta a Casa Massima, nell'area antistante all'abitazione del 27enne arrestato. Ascisce marijuana, per lo più le droghe spacciate, ma non mancherebbero anche altre sostanze. Ampia la piazza dei giovani e giovanissimi di Polignano e non, che frequentavano Calapaura, in cerca soprattutto di qualcosa da fumare. Le indagini non sarebbero concluse e mirerebbero la cerca di persone che frequentavano i baresi e i polignanesi che si incontravano in quell'angolo di mare a Polignano, divenuto centrale di spaccio di droga.